Ora? Mi vedi? Io vedo anche la chat. Silvia? Non riesco neanche a prendere col telefono? Dai, Osvi. Perché non mi vedono? Ciao. Tommaso, ci siamo scritti. Scusami. Non l'avevo riconosciuta. Lui è della radio, puoi rifarti. Ciao. C'è il risultato suo marito. Alla foto non ti avevo riconosciuta. E poi ero venuta al convegno. C'è il risultato? Sì, ma può darsi che in effetti mi ero sbarbato. Sono con i baffi. Ecco, ma se fa più cambiamento c'è un'altra. Anche io mi sono sbarbata oggi. Quindi sta arrivando? Perché non ci vanno, non ti vedo. No, ma vedi, a me, guarda, risulta che... Riproviamo, dai. Proprio review al tablet. E fino adesso si vede...